dopo un quarto ce l'ha visto sulla macchina no guarda la finestra è vista io sono qua non è unice il cammino non fuma io sono qua voi dovrebbe essere non so chi sia anche l'etro se lo fai hanno detto l'etro poi non l'opino ah io ho detto ragazzi l'appuntamento è qua dove lo metto su lo spedisco a Andrea eh mandalo Andrea dire guarda sto imbecille addossato invece che sta alla volta è quell'altro uno e due